Nessuna espulsione a Sanremo 2018 Hermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara al festival e stasera saliranno regolarmente sul palco dell'Ariston per esibirsi con la loro canzone Quella per cui sono sì in conferenza stampa è stato finalmente reso noto quel che è stato deciso Hermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara a Sanremo 2018 A seguito delle valutazioni effettuate l'ufficio legale di Viale Mazzini pensa che la canzone dei due Non mi avete fatto niente, non ha motivo di essere esclusa in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento Si precisa che il brano, sì, contiene stralci del brano Silenzio presentato a Sanremo Giovani 2016, NDR Ma in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi la circostanza che il brano sia stato già fruito non inficia la novità della canzone in gara Si precisa pure, i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse La somma degli stralci non supera un minuto e tre secondi su una durata complessiva di tre minuti e ventiquattro secondi, dunque inferiore a un terzo La conclusione è semplice, le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa e non mi avete fatto niente e quindi considerata nuova e resta in gara Tati accusati di plagio Tati accusati di plagio